può fare il colpaccio questo Venezia che è ottavo a Lazio ha giocato no, se vince può andare a meno 4 da Lazio, Udinese e Milan attenzione questo Venezia che punta all'Europa quest'anno punta all'Europa o alla conference non da poco Zanetti premiato come migliore allenatore settimanale, paro disparo come al solito come al solito seleziona lato o no magliette ma sai che brutto nero e bordeaux ma proprio così qua merda merda caro bianco poligasa ma sono i migliori speriamo abbassato vabbè sepe se arriverà in pareggio con due la gente ma che c'è questo mamma mia quanto sta giocare bene mi sono scordato di aumentarlo sta giocare proprio bene ragazzo ragazzo mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi hanno fatto fuori dal verbo del gioco ti pensi da merda mi stanno a far culo si sono presi tutti i miei punti ci sono rimasto malissimo portatelo Henry portatelo qui ci segna ci sono rimasto malissimo ma te che mi hanno cacciato fuori dal gruppo ma quale gruppo? sono i due turchi da merda mi dissocio mi sono rimasto malissimo ma chi sei tu? ma mi sono fatto al culo per i punti ero in un gruppo turco del villaggio i turchi di socio che pensi da merda raga? sono una stanza di turchi da merda mi dissocio ma tu che ho visto? diluvia 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 è Rayman chismi chismi cagnolo guardo siamo guardo eh portatelo un po' traffa i compi aspetta sono trovato tutto indietro non puoi su no vabbè a monte ma lo devi farlo ma ti riazza al bagno a monte mini socio è l'uomo della pioggia è Dustin Hoffman che fa Rayman abbiamo pure lato punto posso qua vedere dura 7 minuti troppo prima una partita sarebbe male come idea nel scena lato no io sono la Sampdoria no di Dalla Venezia che cazzo sono la Salernitana di Sola Sampdoria stai così vabbè la mia maglia ci vanno a far gioco amici prendimi da bere e dopo vai e so puoi dirmi nemmeno buon camera a vedere lì cazzo guarda che Salerno 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 appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della serie a team attua stara bollente non potrebbe essere altrimenti partita che offre diversi spunti interessanti entrambe le squadre hanno giocatori per risolvere la partita da un momento all'altro io penso che non ci annoieremo ecco credo che non avevo questi marcatori tanto credo che stava a 8 oh ma lo ricordo in studio a notte o credo che a 8 cominciano così la partita Thomas non segna più da se sa quanto Koulibaly oddio un fuoco di paglia anche lui come al solito un insame provo a spazzare ma male qui guadagna metri eh questo Venezia va Buzio di culo ha calciato con forza ma il tiro è sbilenco ma ho messo si è bella è 67 la reale classifica a questo punto della stagione sono reduci da un avvio di stagione decisamente inferiore le aspettative alla prossima eh no non è possibile che c'è il Milan la prossima che ha giocato voilà Nani primo gol primo gol di Nani che ci permette di apprezzare meglio il gol bella la giocata all'indietro del compagno ha raccolto il suggerimento del compagno l'ha messa dentro da distanza ravvicinata due hanno aperto le barcature con questo gol questa Salernitana sempre più giù Venezia colpaccio colpaccio anche del Venezia forse forse e che cazzo tutte passano e buei e buei traversa vabbè vai giocare il mio Thomas per cortesia non consiglio sta merda palla deviata e intervento decisivo questo error da risimpegno da grifone oh insame la faccia da bianco Salernitana offensivo subito lo voglio dire qui orpi sei forza il capitano Aramu c'è Sepe che se la perde oh allontana la minaccia qui no e c'è buona assolata in Italia proprio manco se segna mazzocchi la prova mazzocchi durato benissimo dabs maicol buonassoli de mano sei da pialla mannaggia la mannaggia la no azione che si fa interessante recupera e spazza via di tacchio ti ricordi che gol della madonna si mi tacco robusto no molto lunga come partita lunghissima puoi lanciarsi sulla fascia dai che l'hai vista prova mamma mia si pierre questa volete non è uscita di parecchio michael attende l'aiuto dei compagni nani questa finirà tanto a poco oh l'elastico di nani però è capace di farlo liberi di testa come la si è fatta a pala non lo so vai oh la mazzocchi che la pareggia vuole un palone lungo ma la recuperata senza problemi dal portiere fuori si ripartirà con un fallo laterale recuperano bene palla ci sono avanti a giocare per altri 60 secondi no era gol che cazzo applaudi che stanno giocando una partita del merda 2-6 sovrastati fammi un trò a thomas per favore segna sta a 9 intanto non è buona hai visto perché ho fatto io ho fatto io ho modificato quello che c'era prima quando i vede insegnano non giocano proprio ecco questo non ho fatto io andiamo a fanno a seguire il pallone questi non ce la fanno avanti la prima frazione grazie al suo gol e a parte questo si è dato parecchio da fare fuori fuori insieme entra il mio Henry musse michael dai se sa mai culibali hobby via tattiche come stiamo messi così intanto che cazzo domo sarvato siamo ventesimi occhio al contropiede proprio una squadra che non ci tengo la sua arriva pure ventunesima su 20 non mi interessa tocca giocare per la gloria più che altro per le statistiche quali non se sa però Aramu il capitano si asceglie entra bravo con chionber ex roma ti ricordi chionber stava a roma non lo so che cazzo c'ha come manager chionber per averlo preso da dove dal catania catania a roma ce ne vuole manca di sei pastore dal palermo michael tra un po' esci fortunatamente non perdetevi il prossimo incontro sempre qui su i tv rimbili rimbili vule pensa solo su un passato mi ha toccato un pallone michael in mezzo questo pallone fuori così entrano fuori in cui in cui sono stati troppo lenti troppo prevedibili dai cullibali cullibali la vuole riaprire con una mano una mano romero salva il venezia che entra che mi ha toccato il vantaggio in mezzo di per cullibali cullibali porco un po' spento oggi non ci ho visto molto buona qui la lettura del difensore non può sbagliare ci mette il corpo sul tiro decisiva la chiusura qui sarà calcio all'angolo corner che non produce risultati liberi che cazzo facei 40 anni fermate te fai pure male oddio che a quota 10 quota 10 ok rete super anche thomas se mezzo giocatore fa come vuole da sottolineare il cross per il compagno è fuori è puro italiano non so se stai nell'ander 21 italiano ma so proprio che si perché un super giocatore secondi alla fine due partite è forte per davvero mano prosegue qui dell'avanzata tec decisivo ho sbagliato tutto ho sbagliato proprio tutta la partita levate dal cazzo ma per il tiro è sbilenco perché non gli va bene lo sentono ma mancano tre minuti alla fine della partita io di pari perì me fa schifo lui lo sente lui lo sente che me fa schifo infatti sbaglio tu passaggio intercettato vedi pure lui lo odio lui lo sente che lo odio ma proprio tutta la salernità che odio perché so di Salerno non so manco napoletano o peggio mi dissocio mi dissocio siete meglio dei napoletani mi dissocio di tacchio è buona per i perì non ti amo non lo amo finisce qui non vedevo l'ora 0 a 2 Venezia anche col paccio del Venezia che punta veramente all'Europa League perché poi bisogna vedere tutto il ritorno e via dalite